Bene, ho scritto il brano e mi sono anche scritto alla SIAE. E adesso? La SIAE è una società che ti aiuta a raccogliere i proventi sul tuo brano. Cioè come tu conferisci il mandato alla SIAE di gestire le utilizzazioni delle tue opere, lei va a raccogliere i soldi derivanti dall'utilizzo di queste esecuzioni e utilizzazioni e poi te li paga. Per cui l'iscrizione alla SIAE ha lo scopo proprio di affidare qualcuno il compito di raccogliere i tuoi proventi principalmente. Infatti si chiama società di gestione collettiva o di collecting, cioè di raccolta. Quindi la SIAE fa questa attività solo per i soci che sono iscritti alla SIAE. Ogni sei mesi ti arriverà un rendiconto delle opere utilizzato con il valore di ciascuna utilizzazione. Quindi nella musica è necessario per chi voglia guadagnare dalla musica. Se uno vuole regalare la propria musica può anche non iscriversi alla SIAE. Se uno invece vuole vivere della musica allora è necessario iscriversi a una società di gestione collettiva. L'iscrizione è onerosa, cioè costa 220 euro circa il primo anno e 90 euro gli anni successivi che vengono sottratti dai tuoi guadagni di diritto d'autore. e per depositare un brano basta fare una trascrizione della linea melodica e del testo, compilare un bollettino di deposito particolare e consegnarlo alla SIAE. Da quel momento si ha la raccolta dei proventi su questo brano.